Quanto riguarda le impostazioni, ve le faccio vedere tutte quante In teoria la cam non dovrebbe neanche darmi problemi, credo Ok, a posto Allora, impostazioni, c'erano tutti quanti? Se voi dopo avete domande mi fermate e mi chiedete Vabbè, controller, lo sapete, tanto gioco col pad Qua uso predefinito e invertito, lo sapete che gioco in claw, quindi No, uso l'indice sui quattro tasti Bumper ping no, inverti, questo qua vabbè, sempre personal preference, quindi sempre legato a come giocate voi Siccome l'avete predefinito, vibrazione no, perché la vibrazione è solo un fastidio Un fastidio per il pad Effetto grilletto no, input zona morta, allora qua Qua hanno messo anche il test, tra l'altro La zona morta di default A pare che c'è la musica poi, a pare che tanto non si sente nel VOD Però ve la tolgo La zona morta di default Deve essere 5 Ok, di base la zona morta di default del pad deve essere 5 Ma il gioco vi mette 25 mi sembra o 15 Che è altissima Quindi la prima cosa che dovete fare è se non avete cambiato le impostazioni del gioco E andare a cambiare subito la deadzone E abbassarle e mettere almeno 5 Poi più riuscite a scendere, meglio è Qual è il pro dello scendere di deadzone? È che sicuramente più la deadzone è bassa e più l'analogico è reattivo E quindi meglio è per la mira e anche perché andate a sentire un po' di più l'automira Più è alta Maggiore la deadzone quindi Meno input la levetta va a registrare E quindi è un problema Diciamo la via di mezzo è sempre 5 Anche per evitare un po' lo stick drift Quindi ho 5.99, 5.99 E questa qua è la deadzone invece dei grilletti Quindi qua vi imposta un valore nel quale Se non premete oltre un tot Non vi prende l'input Quindi ovviamente è meglio mettere a zero Soprattutto se sparate con i trigger di sotto Poi puntamento Vabbè sensibilità qua è tutto sempre solito soggettivo Quindi ho 7.7, 1x Uso 7.7 perché 6.6 è troppo lenta L'ho cambiata anche già su Warzone 2 Quindi con 7.7 mi trovo abbastanza bene Moltiplicatore 1x Perché non lo abbasso Non lo alzo Perché non voglio avere due sense diverse Quindi quando mi muovo E quando poi vado a mirare Però qui poi dipende sempre da voi Quindi sicuramente ci sono quelli che usano 7.7, 0.90 C'è chi usa 10.10, 0.90 C'è chi usa La sense È una cosa È una preferenza personale Quindi l'importante è che vi ci trovate bene 7.7, 0.85 Se ti trovi bene Ma non si La domanda è quella Mi trovo bene? Sì Allora la uso Basta Qua non ho toccato niente Quindi tutto standard 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 Sensibilità Postura tattica Stessa roba Quindi che Come vedete la mira Quella storta Quindi quella che vi chiede anche delle sfide Lascio tutto quanto uguale Perché non voglio avere sense diverse Cru direzione mira Qua voi di default avete standard Dovete mettere dinamica Che è molto meglio Perché la 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 sensibilità Diciamo La L'automira Funziona Come se fosse una sorta di S Rovesciata Quindi la Il feeling del gioco è che sarete più veloci Nel close range E più lenti nel long range Quindi ovviamente vi aiuta In entrambi i casi Qua non ho toccato niente Letteralmente nulla Quindi per sentire lo zoom No In modalità mirino Concentrata Che non so nemmeno cosa sia Concentrazione Vabbè Comunque non è attivata Quindi lascio tutto così Mira assistita ovviamente sì Tipo di mira assistita Io ho predefinito Alcuni usano Black Ops Lo ho provato Un po' a cambiare Ma non ho Non ho avuto Un feeling Chissà quanto diverso Mi sembrano identiche Dinamica quanto? Dinamica Non ho toccato niente Qua è sempre a 1 Non Non Da quel che so Anche in comp Lascio sempre a 1 Perché mi sa che Se la togli Se mettete a 0 Qua È come utilizzare standard Quindi non ha molto senso La mira tattica serve Per Per le sfide delle mimetiche Essenzialmente Per adesso Comunque Mira assistita C'ho predefinita E E qua nient'altro Però non ho cambiato nient'altro Tutto quanto standard Praticamente Poi andiamo su gioco Scar tattico automatico Io lo utilizzo Se giocare solo al multi Potete anche non utilizzarlo Perché in realtà Sul multi A volte è più uno svantaggio Che un vantaggio Avvenzamento automatico No Gestione Scatto tattico Doppia pressione Poi Una cosa che dovete togliere Come anche nell'altro gioco Sono tutti gli scavalcamenti Quindi scavalcamento a terra No Scavalcamento automatico in aria No E scavalcamento a terra Presa in automatico No Quindi questa cosa qua È importante Toglietela Un'altra cosa Importantissima da cambiare Per avere lo slide Più fluido Soprattutto È mettere Questa opzione qua Quindi funzionalità Scivolata tuffo In solo scivolata Perché di base Dovrebbe essere Premi per scivolare Se mettete solo scivolata Praticamente andrete a togliere Il dive Quindi non potrete più toffarvi Che comunque Risulterebbe scomodo Perché non riuscite a fare lo slide E il dive Fatto bene Soprattutto in questo gioco qua Quindi vi va a togliere un po' Quell'istante macchinoso Che si è Che si crea Al momento E poi Qua nient'altro in realtà Qua non ho toccato nulla Perché poi sono tutte quante cose Inerenti a A warzone Quindi per adesso Non le ho Non le ho toccate E visto che warzone non c'è E E niente Quindi queste cose sono le impostazioni di gioco Quindi ricapitolando Ovviamente Le cose principali Che vi ho detto Sono la deadzone In assoluto Che è la cosa più importante Per la mira La vostra sense Che deve essere un po' Dovete giocare un po' Perché comunque è personale Provate un po' Magari a aumentare E diminuire in caso E E appunto questo qua Della scivolata Dov'è? Questo qui Quindi secondo me I tre cambiamenti Più importanti di questo gioco Per quanto riguarda la mira assistita Poi Secondo me in realtà A me no Per come l'ho provata Se sia su PS5 Che su PC Mi sembra identica Letteralmente identica Quindi non Non ho avuto Particolari sensazioni differenti Ora Punto di vista grafico Ovviamente La maggior parte di queste qua Sono per PC Tranne per alcune Perché poi su console C'è lo standard Solito Quindi vabbè Solo per schermo intero Che è l'opzione migliore Gli altri Non sono un granché Non usate schermo intero Senza bordi Perché ha un po' di delay Leggero delay Vabbè 270 Hz Che è appunto La frequenza del monitor Mio 2K E qua nient'altro Quindi qua Vabbè La bassa altenza In video Reflex Tutte cose Abbastanza standard Qua Qui invece su qualità È abbastanza diverso Quindi ho personalizzato Ovviamente Qua risoluzione Rezza grafica Al 100 Perché se no Non vi renderizza Come dovrebbe In base alla risoluzione Che mettete Qual fidelity Fidelity casa Al 50 Non più al 90 Come l'avevo su Warzone 2 Su Mv2 Lo scalavuram 50 Poi Risoluzione texture Bassa Normale Profanità di campo No Bassa Bassa Impatto proiettili Si Effetti persistenti No Qualità shader Media Streaming texture On demand Toglietele Ok Anche sulla Anche sulla play Togliete queste qua Perché se no Vi fanno laggare un botto Qualità Qualità ombre Molto bassa Ombre su schermo No Occlusione ambientale No Riflessi su schermo No Qualità Riflessi Statici Bassa E Tassellatura vicino Memoria terreno max Qualità volumetrica Bassa No Bassa No Quindi come vedete Sono tutte E quasi tutto Al minimo O comunque le cose in più Sono tutte quante tolte Ricordatevi qua La parte La parte importante Anche sulle console Toglietele Le streaming texture On demand Perché se no Vi fanno laggare Vi portano Per i datati Poi Visuale Campo visivo 120 Perché Mi ci trovo Come sono abituato Anche per warzone Campo visivo Meditamirino Relativo Perché Relativo di solito È quello che Al 95 Per cento Delle volte Viene utilizzato Avrete lo stesso Fov Sia Meditamirino Sia Non Quindi avrete 120 Siamo vendovi Che 120 Siamo mirando Se usate indipendente Invece Ve li Ve li separa Quindi avete 120 Quando mi muovete E avete tipo Mi sembra 80 O 60 O forse Sì no Penso che sia 80 Quando mirate Quindi sarà zoomato Qual è il pro E il contro Se usate indipendente Con Sare indipendente Il pro è Di vedere meglio Ok Perché vedete Tutto quanto più grande Però C'è molto più Rinculo visivo Ovviamente E Un problema Dell'indipendente È quello scattino Che dà Nel Close range Qua uso Campo visivo Dell'arma Larga Quindi si vede L'arma un po' più piccola Perché mi piace così Motion blur Tutti off L'effetto pellicola A zero E Qua ho lasciato Tutto quanto per definito Tutto quanto uguale Anche se questo Andrebbe al minimo Praticamente Così almeno Quando arrivano Nade O fanno esplosioni La visuale Si muove Il meno possibile Poi Audio Audio praticamente Uguale all'altro Quindi è potenza Bassa e cuffie Perché se avete Le cuffie Spero di sì Per voi Qua vabbè Tutto inerente al pc Volume generale Ho metto Vabbè metto 50 Perché è sempre inerente Alle vostre periferiche Tolgo la musica E Nient'altro Schermettere senza bordi Da un po' di delay Sì Non tantissimo Ma un po' di delay Lo da Interfaccia Qua Allora Qua ci sono alcune cose Da cambiare Allora Tendenzialmente In realtà è solo una Quella è importante Qua ci sono i filtri Del colore Se lo volete Se volete cambiare Se volete cambiare Di solito io mettevo Tertanopia Perché è un po' più carino Però Non l'ho fatto adesso Perché ho Dei filtri esterni Io vado a cambiare Sempre questa cosa qua Board di interfaccia Che di base Sono diciamo Più o meno Allineati Al vostro monitor O comunque Sono molto più larghi Cercate di diminuirli Più possibili Sia verticalmente Che Orizzontalmente Perché Almeno così avrete Tutto quanto più vicino Al centro dello schermo Quindi se voi sparate Ok dovete vedere il radar Non è che dovete fare Non è che dovete vedere Di qua Che è lontanissimo Più vicino è Al centro dello schermo Meglio è anche Per gli occhi Quindi riuscite appunto A Sia sparare E restare concentrati Sul centro dello schermo Quindi sul mirino E anche vedere Le informazioni della mappa E poi qua nient'altro Mirino Lascia tutto quanto standard Tutto quanto Normale Tranne vabbè La telemetria Qua che ho messo FPS Altenza server Per i dati E temperatura scheda video Quindi Queste qua sono un po' Al momento delle impostazioni Del gioco Tastiera mouse Non l'ho Non l'ho aperta Perché non lo uso Semplicemente Quindi Serve a essere inutile Purtroppo Non usandolo Non so darvi consigli Lì Comunque sì La pendenza La gioco Sempre È di default Non è qua È qua A 1 Quindi queste qua Sono le cose Secondo me Che dovete cambiare Di base È un video Crash Tanto poi uscirà Comunque Tutti Ora O C'è un video Grazie a tutti.